Ho voluto provare a inseguire quello che era la passione vera, quello per cui io vivevo. Io in quel periodo vivevo per questo. Ho detto voglio svegliarmi la mattina e non andare a lavorare. Io voglio fare quello per cui aspetto le sette di sera del giorno successivo. Io quando andavo a letto la sera pensavo già all'allenamento del giorno dopo. Cazzo, ma hai convinto? Faffanculo, cazzo. Faffanculo. Ma chi può vantare una cosa del genere? Chi la può vantare? Giacomo Boretti! Ciao a tutti! Bravissimi! Cazzarola, sono un direttore d'orchestra. Grazie, grazie di questo calore, di questa presenza incredibile. Voglio approfittare per salutare la band. Questa sera c'è una band nuova perché cambieremo un po' di band e ve le faremo assaggiare nella loro meravigliosa... I soliti ritardatari del cazzo! Ti faccio mandare lì, Danny Lazzarini ti fa un culo così allora. Perché sei arrivato adesso, cazzo? Se questi qui sono qui dalle 7.20 questi qua, di venire prima. Comunque, signore e signori, Ciro e gli amanti di Vigevano! Lo so, lo so, lo so, è un nome da fuori di testa, ma noi quelli normali non li vogliamo. Noi vogliamo solo persone speciali e li gusterete durante la serata perché sentiremo un paio di loro pezzi. Bene. Quanti di voi è la prima volta che vengono al Teatro Oscar? Ma dove cazzo eravate prima? Ma sempre lì attaccati al telefonino. Venite al Teatro Oscar, dove qui si fa il podcast, ma c'è tutta una stagione di spettacoli meravigliosi. Voi approfittate all'uscita, prendete il programma e venite giù la voce. La voce di merda stasera. Sai che fai? Hai preso il programma! Bravo! Fate come lui! Alzate in piedi, fai vedere che c'è il programma. Bravo! Però, non è che devi prendere il programma e basta, devi anche venire a vedere gli spettacoli. Mi raccomando. Oh, bene. Bene, signori e signori, siamo pronti. Direttamente dal Teatro Oscar in Milano, l'ennesima puntata del podcast con due ospiti questa sera. X Burri e Danny Lazzarin! Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita, quel che leggi sul giornale, e certe volte anche alla sfiga. Ci vuole un fisico bestiale, sai, 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 per bere e per fumare, sai, fumare, sai. Ma come ci vuole un fisico bestiale? Non avevo capito. Ciao a tutti! Chi sei? Non riesco, stavo pronto a cavallare, non salto. Per piacere. Sto così. Due palestrati di merda, guarda. Allora, scusate, tiro via questo qui perché così mi siedo con voi. Scusi, ma il secondo dov'è? Palestrato. Applauso! Allora, parliamo subito le regole. Ogni cagata che dite, il giudice, insindacabilmente, vi farà fare dieci flessioni. Io non parlo. No, siccome una l'hai appena detta, dieci flessioni. È trattabile? Si può trattare? Sì. Ok. Possiamo aspettare la seconda? Non conoscevo la regola. Vediamo. Ma che, come, che... Fattelo spiegare che cos'è questa roba di vai l'uomo. Ti prego. Che minchia è sta roba qua? Piega, piega. E soprattutto perché lo gridano a me, a Palermo? Che cazzo c'entro che non vai l'uomo? Vai Palermo! Vai Palermo. Va bene, va bene. Meglio di niente. Vai Palermo. Ma vai a cagare. C'è un po', c'è un po' caldo stasera, mi pare. O no? Sei pronto per le flessioni? Molto bene. Un po' caldo, un po' caldo, sì. Scusa un attimo. Ma questa è l'unica gag che ho preparato. Ah, non mi chiedere un ca... Non so il niente. Ma l'hai comprata dal nostro store o dai bagarini soliti? L'ha comprata la mia ragazza che è lì in prima fila. Complimenti, puoi andare a casa. Allora, ma voi siete amici da sempre? Io l'ho conosciuto stasera, in realtà. No, ci conosciamo da... Credi che poi ci credo. Cinque anni. Da cinque anni. Cinque anni. In galera dove vi siete conosciuti? Più o meno, sì. Ci siamo conosciuti in questa galera, in questa prigione, che è la bellissima vita, esatto, di chi crea contenuti digitali e per una collaborazione, per una sua decisione, tra l'altro, di invitarmi, abbiamo scoperto di avere diverse affinità. Ed è nata questa amicizia che continua tuttora. No, sto facendo una cosa che non c'entra un cazzo. Cioè, tra l'altro, bellissimo perché non vedo nulla, potrei dire qualunque cosa... Teatro è così, teatro è così. Tu non devi vedere lo spettatore. Lo so, lo sappiamo, lo sappiamo. E lui, non è che nicchia sai. Loro che devono vedere te. Ti, ti, spiega, vai, vai. No, che è il non devi vedere. Basta, basta. Ma stavi dicendo altro, vai, vai oltre. Cioè, io che canto, ok, il nostro incontro, la nostra... Ma io dovevo pur fare qualcosa qua stasera, siccome non posso raccontare. Proviniamo tutto. Racconta di questo incontro. No, quindi, sì, ci siamo conosciuti. Ovviamente il primo passo l'ho fatto io, perché lui si è fatto un po' corteggiare, no? Da prima donna. Ci siamo subito piaciuti. E ho sentito anche... C'è stata anche qualche palpatina il primo giorno. E poi è iniziato un'escalation, un capitombolo amoroso che ci ha condotti qui, oggi. Che vi ha condotto a fare una delle tante cose ammazzati lì, di flessioni, di... Sì. Cioè, abbiamo fatto anche... Ora è sempre così. Ci alziamo lontano. Cioè, abbiamo anche fatto due, tre cose. Due, tre cose le abbiamo fatto, sì. Due, tre cose. Però anche delle flessioni. Anche le flessioni sono state fatte. Sono flessioni, però... Quando volete, tu ce lo dici. Non mi sembrate in forma stasera. Questa è un grave... Quanto è alto qui? Saranno sette, ottocento foot. Un po' di luce. Buonasera. Ora vedo, ora vedo. Anche loro. Buonasera anche voi. Sono lì. E lo spettacolo era lì. Ma cazzo! Sto in prima fila! Adesso me l'hai fatto arrabbiare. Poteva essere una serata piacevole. Adesso si sfogherà, secondo te, su di chi? Danny? Minchia, un idolo c'avevo. Mi avete fatto fare brutta figura con il mio idolo. Parcheggio? Parcheggio? Tre. Tre? Ah, vabbè. Vabbè, il treno, però. È lecito. È lecito. È il treno. Lo giustifichiamo. Voglio dire, cioè, da dove vieni? No, la brasa è... Ma spegne, va. Lavora in treno, probabilmente. Vabbè, vabbè, vabbè. Basta, non facciamo peggio. Basta. Ecco. Quindi cos'è una scusa? È certo. C'è di sicuro una collaborazione. Chissà cosa stanno organizzando questi due. Scusi, lei ha superato... Io però sono arrivato in orario. Com'è sta storia? Come cazzo? Non ho fatto manco tappa all'ambrate. Che so benissimo dove sia. Sei atipico, eh? Sei atipico. Vabbè, vabbè, comunque... Vi siete incontrati... Aspetta che... Il linguaggio. Ah, scusa, hai ragione. Già due parolaccine. Cioè, basta. Cos'è che ha detto? Basta. Scurrile. Volgare. Lui ha il compito di riprendermi e poi vado un po' a ruota libera. Ah sì? C'ho questa verve, questa focosità, no? Lui si accende. Poco. Vabbè, comunque, vi siete trovati? Qual era il motivo dell'incontro? Il motivo era un format, cioè l'ho invitato a un dubbio format che si chiama Puoi mangiarlo. Ho messo un applauso. Grazie mille, ragazzi. Il supporto... Che non farò mai più, è arrivato a questo punto, questo che non frega nulla a nessuno. No, no, ora è per prima quando dovevi applaudire, dove eri? Era il ceso. Puoi mangiarlo? Che era questa serie dove invitavo un ospite per mangiare cibi... Parolacce sempre. Loro non li riferiscono. Vai, 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 vai. Cibi da tutto il mondo, scorpioni, larve, eccetera. Ho avuto un sacco di ospite, non so come sia stato possibile, ma sono riuscito a invitare un sacco di persone. Cosa hai mangiato tu quella volta? Che abbiamo mangiato? Io ho mangiato una parte della testa del maiale, ma non mi ricordo cosa mi avevate fatto mangiare. La testina? No, non so, sì, qualcosa di... Ma si mangia anche in Lombardia. Sì, disgustoso. Che posto strano la Lombardia? La testa del maiale, così. Sì, come un trofeo viene anche mangiata. Si pasteggia con la testa del maiale. La guancia del maiale. No, era un qualcosa di... No, credo fosse tipo il cervello. Oh sì, un qualcosa del genere. Roba che comunque si mangia, però ovviamente non è che gliela cucinavamo tipo gourmet. No, pruda, orribile. La vita è messa lì, quindi fa un po' schifo, onestamente. E lui ha accettato. Lui ha accettato. Pensa un po'. E da lì siete, grazie al cervello del maiale, siete diventati amici. Ma non l'avevo mai vista sotto questo punto di vista, ti dirò. Però effettivamente... Ti conviene vedere anche questo punto di vista? Effettivamente, sì. Se vogliamo farla sempre. Ah, l'amico. L'amico. Anche se cerchi di nasconderti... Siciliano? Lambrate? Vabbè. Scappava, scusate. Come? Scappava, scusate. Ah, bene di prenecessità, ci sta. E allora ti piscio in macchina. Scusate. Allora, facciamo che le contingentiamo, tipo ne ho tre per tutta la serata. Sì, però tu puoi dire, fare quello che vuoi, insomma. Beh, insomma, voi due, insomma, siete qua perché siete degli attivisti, non so neanche... Perché siamo qua? Non lo so. Danny, perché siamo qua? No, ma voi siete degli attivisti, siete presenti sul web, intrattenete, fate, no? Sì. No, mi interessa sapere il vostro punto di vista perché... Ci piace molto, molto far ridere i ragazzi, sì. E la cosa che più ci accomuna, forse, è che ci piace ridere mentre registriamo quello che pubblichiamo per i ragazzi. Quindi in prima battuta ci troviamo e ci divertiamo tantissimo. La maggior parte delle cose che registriamo, per ovvi motivi, non possono essere caricate. Quello che rimane, che può essere trasmesso pubblicamente, è quello che carichiamo. Che è tipo un 10% del girato. Però noi veramente per lo più amiamo trovarci, divertirci e dopo portarlo nella casa dei ragazzi. Questo sì. Grazie. E quindi, voi sostanzialmente usate due elementi per intrattenere il fisico, così si può dire, e il cibo. Dico bene? No, in realtà no. No, ho capito un cazzo. Non è tanto il fisico... Ho visto il profilo sbagliato, scusa. Sì, non è tanto... Ho cercato cinque minuti fa e... No, non è tanto il fisico e il cibo. È forse questa nostra capacità di essere complementari. Ovvero ci bilanciamo tantissimo. Il contenuto è un pretesto e poi noi in realtà ci costruiamo un... Tutto un... Che è così, questa cosa? Quella roba lì. A porno. Sì, sì. Giorgio ama comunicare con suoni onomatopeici, quindi... Butturati. Un po' grottesco, ma a lui piace. Che è tipico delle zone da cui... No, ma questo lo... Lo posso dire perché sono siciliano, quindi siciliano battuto sul siciliano, ok. Lui siciliano, no. Comunque, vabbè, però il fisico è presente. Il corpo è una componente bella, decisamente bella presente. Sì, all'inizio era molto ampia questa differenza. Ci percepiva subito perché lui era magrolino. Mezza sega, era come me. Era... Ma mezza sega. Mediocre, sì. Mediocre. Guarda, mi va bene mediocre per come stava andando la discussione, mi prendo un bel mediocre. E ce lo portiamo a casa. Mago, ho tutto il cuore, guarda. E invece in questi ultimi cinque anni... Una muddica, eri una muddica. Una mollichina. Falla come vuoi, sei un po' cucuzza. Non so che minchia ha detto, però ho fatto ridere. Siamo a due. No, no, questa non era... Questa è un detto siciliano, quindi siamo ancora a uno. Ne ho altre due da dire. Sì, ma è l'arbitro che decide. Ah, appunto. Vai avanti. Quindi il fisico, lui... Inizio, tu l'hai visto, sono madonna. Che disastro. Ho provato... Cerchiamo di salvare il salvabile. Lui aveva comunque la passione, si stava avvicinando a questo mondo. E quindi mi ha chiesto qualche consiglio, abbiamo deciso insieme di provare e di sperare nel riuscire a rimediare a quello che la natura purtroppo... Eh, Giorgio, Giorgio! Per piacere, quello che hai va detto. Vabbè, vabbè. Cioè, veniamo a dire, è un fisico di merda, ce l'avevi? Poi sei migliorato nel tempo, ma... Molto, molto. E quindi ecco, dopo diciamo che la coppia non è più stata, diciamo, vista con questa differenza fisica, perché lui, ovviamente, come si vede e si percepisce anche... 100 euro dopo... Ha raggiunto una forma bella, accettabile, piacevole. Piace sia all'uomo che alla donna. È comunque una figura che viene presa molto bene, è piacevole. Però, ecco, forse, anche questa contraposizione, no? Veneto, Sicilia, il... Mi ricorda anche qualcosa, vagamente. Sì, sì, si è vicino, ma non c'entra il Veneto, però comunque, diciamo, questa... Ma annuiamo. Annuisca, faccia... Sì, certo, certo, lui è contento, si rinvigorisce un po', torna a casa... Vai, 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 vai. Giacomino a fretta, mi sembra, però cerchiamo di interagirsi... Dai, 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 veloce, veloce, che c'è tanto da dire. E quindi, ecco, diciamo che il duo è stato, diciamo, amato fin da subito. Uno per la complicità, perché noi stiamo bene insieme, e credo che quando ci sia qualcosa di naturale, lo si percepisca a casa. E quindi questo è stato subito preso... Ma tu ti guardi intorno, ti sto dicendo cose belle, e ti guardi attorno come se io dicessi... Vediamo se la confermo. Siamo anche la sua. Magari è una visione di... No, credo che il... Dobbiamo lavorare un attimo su questo, perché non è possibile, non potersi più a... Basta. Accavallare le gambe o un casino. Credo che il fatto... Che poi scappa, cioè, anche se lo fa... Dopo un po', vedi che... Ma guarda, sai che lo faccio anche a occhi chiusi? Vediamo. Ambi destro. Ci sarà un motivo se tu sei Giacomo Poretti e io... Ci sarà un motivo se lui è al centro e noi... Esatto, e noi è anche io. No, credo sia piaciuta molto, cioè, si percepisca tanto tra di noi, perché di collaborazione ne abbiamo fatte tantissime, no? Lui con un sacco di creator, io con tanti altri. Però tra noi due c'è proprio una complicità genuina, che nonostante interpretiamo dei personaggi, i gentlemen o... Oh, niente per fenga pubblico. Ragazzi, pubblico! Pessimo questa sera! Però si percepisce proprio che c'è un feeling particolare, un'affinità. Credo che questa cosa, in un 2024 ormai... ha anche strizzato un po' gli occhi per ricordarsi qual era l'anno. Cioè... Effimero, costruito, polivalente... Si apprezza comunque questa... Mi sono scordato che cazzo sto dicendo? Si apprezza questa genuità. Si è piaciuto questo. Guarda... E basta! E siamo qua! Comode! Allora... Ti posso dire, comode! Vi voglio chiedere quando avete cominciato, ma prima io farei sentire una canzone della nostra band. Spaghetti, pollo, insalatina e una tazzina di caffè A malapena riesco a mandar giù Invece ti ricordi che appetito insieme a te Adetroi Lola Pazzie che non farò mai più Ricordi Che notti di follie A detroi Spaghetti, insalatina e una tazzina di caffè A malapena riesco a mandar giù La gente guarda e ride Ma non piange insieme a me Per te Lola Adetroi Ciro e gli amanti di Vigevano Questo è talento, ok? Quello che noi dobbiamo sperare un giorno di... Prego Ma un esercizio per la tosse, non ce l'hai? Sì Vai uomo Questo schiarisce sempre, rimbigorisce l'ugola Vai donna, siediti al tuo posto, cazzo E vergognati Un uomo nuovo Vedi lì fomenta E questi tutto... Mi raccontavi prima che a 14 anni ti è partita sta desiderio di conoscere il mondo del web che quando tu avevi 14 anni era pressoché sconosciuto, adesso impera Sì Adesso credo che sia il vero mondo, per me erroneamente, ma... No, sì, 14 anni fa, ormai, perché quando avevo 14 anni sono passati 14 anni ragazzi, 28 anni ciò Era proprio sì, super agli albori Cioè ti raccontavo appunto YouTube, viene fondata mi sembra... 2006 2006 2006 Esatto Grazie mille Io mi sono iscritto nel 2010 E ovviamente quando ho iniziato io non c'era la cultura che c'è ora, che adesso i ragazzini vogliono fare l'influencer, lo streamer, lo youtuber, il tiktoker Non c'era nulla di tutto ciò, si muovivano i primi passi nel web, su YouTube, nel mio caso E iniziavo a guardare i primi youtuber dell'epoca, che nemmeno si potevano definire veri e propri youtuber, perché lo facciamo tutti per hobby, no? Non c'era un palinzesto, una mentalità, imprenditoriale, niente di tutto ciò Quindi sì, un ragazzino a 14 anni inizi per passatempo Poi infatti... Aggiungerei anche una cosa Che se ci contestualizziamo a quel periodo storico, non solo non era conosciuta come professione ed erano in pochi, ma non c'erano neanche gli strumenti per farlo Ad oggi, con gli smartphone che possiamo trovare in un qualsiasi centro commerciale, siamo già operativi Possiamo già registrare, editare, caricare i nostri video ed essere subito presenti nel web Una volta, no, non c'erano gli smartphone che potevano fare questo, dovevi essere attrezzato, dovevi avere una videocamera E i primi youtuber, quello che potevano fare era registrare con una webcam, se non ricordo male, a bassa definizione La fotocamerina piccola, che faceva per miracoli i video in 360 Esatto, esatto Quindi, anche quello, cioè, adesso noi, diciamo, è facile essere uno youtuber perché hai un'idea, hai la creatività, registri All'epoca, anche se ce l'avevi, ma non avevi nulla per essere presente, perché magari non eri fortunato e non potevi avere un computer E quindi, ecco, era questa la cosa bella, la magia del momento Dove in pochi provavano senza sapere quello che sarebbe successo dopo, perché è bello scegliere un lavoro quando sai già a cosa ti porterà Che ci sarà uno sbocco anche importante Quando lo facevano loro, lo facevano solo per il desiderio di sfogare la loro creatività Non c'era né una visione di quello che ci sarebbe stato, né una visione di rientro economico per quello che stavano facendo Era pura passione, quindi era tutto un altro mondo, bellissimo quel periodo E tu invece sei arrivato dopo? Io sono arrivato molto dopo, io sono arrivato nel 2017, 2018, quindi in quegli otto anni lì è esploso tutto E penso che i primi smartphone fossero già Sì, assolutamente, perché io registravo con, mi ricordo anche lo smartphone Con l'iPhone forse No Taglia, taglia, vergognati 10 presi Esatto, quindi avevo questo Braccio, visto, studiati Questo seguo i miei video sicuramente Bevi Oh, mai più, eh Idrattati Vuoi una tachipirina? Mai più Micchia, io le faccio 30 di fila Cosa gli ridi? Giacomo! Gli ridi in faccia? Giacomo! Giacomo! Rispettosi per cortesia E quindi quando mi sono trovato nel 2018 Fate anche... Aspetta Cosa c'è? No, no Hai fretta? No, no, no Hai parlato fino adesso Hai fatto vedere che dopo 10 pressioni Mi piace come in qualsiasi contesto io divento sempre quello Eh, te lo c'è, te lo c'è Ma che cazzo dà la faccia? Non lo so, ispiro Senti un po', senti un po' Allora lui, ho capito Poi, dopo magari lui mi correggerà Ma che... No, meglio che non lo faccia Andavo a scuola Probabilmente non aveva voglia di fare un cazzo No? Si è messo lì e è cominciato a smanettare E gli è andata pure bene E gli è andata pure bene E gli è andata di culo No? Tu invece... Nella vita è fatto le cicci serve Prima del 2017 cazzo facevi? Io prima del 2017... Non dirlo comunque... Tanto lo sai già e vedi... Lo dici come se ci fosse chissà cosa Non c'è nulla di male Dillo cosa c'è Lavoravo nel settore delle onoranze funebri Cos'è questo divietto? Tanto tutti l'anno andiamo a finire ragazzi Quindi è inutile che facciamo... Lavoro onesto Raccontatele che mi interessa molto Lavoravo in questo settore Avevo agenzie di pompe funebri Ne avevo più di una E le gestivo Ma con me c'è sempre stato Un unico grande Tarlo nella testa L'allenamento Finivo di lavorare Potevano essere le 7, le 8, le 9 di sera Andavo in palestra e mi allenavo Quindi io l'ho sempre fatto Dall'età di 16 anni Mi allenavo mentre ero a scuola Studiavo Mi sono allenato anche durante I miei anni di lavoro E questa passione che continuava a crescere Che faceva parte di me Una volta arrivati questi smartphone E la presa importante di posizione Dei vari social Perché ne sono nati nel frattempo altri Perché arrivò Instagram Arrivò e quindi ce n'è Facebook Ho detto Non ho gli amici Quei con me Che amano il fitness Come lo amo io Quindi magari la sera Ti trovavi con qualcuno A parlare di Mentre magari mangiavi una pizza La panca piana Quando ti metti in posizione Che cazzo Non c'era modo di parlare Non era una cosa amata Ero da solo E quindi Ok scusa Giustamente non trovavo Con l'arrivo dei social Questa forse è una delle cose più belle Avevo a disposizione Tanti altri appassionati Con cui condividere la mia passione Ho cominciato a mostrare I miei allenamenti in casa Nel mio garage Gli allenamenti neanche in palestra E parlavo con i ragazzi Nei commenti Si creò una community Discutevamo sugli esercizi Gli allenamenti E quello mi fece Diciamo Avvicinare al mondo Del fitness digitale Ovvero tutti quegli appassionati Che hanno avuto modo Di confrontarsi E come me Tanti altri Che non potevano parlare Con i loro amici Di questo Non vedevano l'ora Dell'uscita di un video Per parlare Tramite i commenti O nelle discussioni Di questo mondo E quindi questo Ha fatto sì Che io potessi entrare E piano piano Acquisendo visibilità E cominciando a raggiungere Una certa audience Decisi appunto Di dire Sai che c'è? Lo faccio con un po' più Di costanza E ho mantenuto Sia il lavoro Che questa passione Di pubblicare i video Per un altro anno Altro anno e mezzo E dopo ho deciso Di ritirarmi E di dedicarmi Solo alla parte digitale Aprendo a parte Altri tipi di attività Ma correlate A quello che stavo facendo Ovvero una nuova vita Ho voluto Azzardare Ho voluto Provare a inseguire Quello che era La passione vera Quello per cui io vivevo Io in quel periodo Vivevo per questo E ho detto Voglio svegliarmi la mattina E non andare a lavorare Io voglio fare quello Per cui aspetto Le sette di sera Del giorno successivo Io quando andavo a letto La sera Pensavo già All'allenamento Del giorno dopo Cazzo mi hai convinto Porta Ma chi può vantare Una cosa del genere Chi la può vantare Chi può vantare Una cosa del genere Vedete Da domani sera Tutte le sere Alle 9.35 Ci troviamo qui L'anno prossimo L'anno prossimo Sarà così Volevo infilarmi Sempre di infili L'anno prossimo Gli ospiti Li prende per il coppino Vieni Stai qui Stiamo traslocando Andiamo via Ci spostiamo Mettere la jack Mettere la jack Ma ho una domanda Perché non ti sei fatto Mettere anche tu una poltrona Perché io tu sul cubo Ma intanto stai zitto Perché magari Non ti fai i cazzi tuoi Oh chiedo Chiedo Non ce l'abbiamo Una terza poltrona Mamma che figure Era bello Perché è nato così Chi lui Ricordati gli esercizi Conferno Sono nato così Anche se non sembrerebbe Prova Il 7 è sempre stato così Perché c'era un ospite Solitamente Quindi adesso siete in due Il cubo Ma ti sembra che lui Deve giustificarsi Chi sarà L'ospite indesiderato Il terzo incomodo Cambiamo discorso Basta Sei Di una bassetta Comunque Senti La panca piana Ma fate come cazzo Cioè Mi faccio Mi faccio una bella pennica No Senti 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 Invece Quando avete finito Panca piana Giuri panca piana Lui ok Ma tu Le prime cose che hai fatto Di cosa parlavi? Le prime cose che ho fatto Per fortuna Ho avuto la decenza Di cancellarle Perché erano Tu credi Di averle cancellate Ma io le posseggo Ecco Che cos'erano Quelle mail minatorie È uno scherzo Erano dei Diciamo Che prendevo spunto Da un noto youtuber Che Facciamo il nome Sì Facciamo il nome Wilwush Che Facciamo un applauso Me ne ricorderò Murri E nessun applauso Wilwush Oh Prendevo Molto spunto da lui E appunto Cercavo di fare Questi sketch Non comici Comici non lo metterei Questi sketch Dove Andavano molto di moda Ai tempi Si parlava di un argomento E tu ci costruivi Attorno a uno sketch Dove interpretavi Tu da solo Diversi personaggi Magari con l'ausilio Di una parrucca Di una maglietta diversa Adesso sta roba Si è un po' persa Cioè Hai parlato mezz'ora Di banca piana Dimmi Alle travegole Sì È così Meridionali Sono così Io un attimo Sto dicendo una cosa seria Vai 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 Quindi C'è sto cazzo Parrucche Cosa Eh Due Parrucche Sì Ho fatto circa Un annetto e mezzo Dopodiché Sarò sincero Non mi cagava Nessuno Proprio nessuno Totale Ho cambiato Totalmente Ho cambiato nome Quindi Mi sono poi chiamato Murri Perché non mi chiamavo Murri Come ti chiamavi Murri? Te lo dico subito Mi chiamavo Mi chiamavo Ehi Mi chiamavo Segnale disturbato Come mai Segnale disturbato? Qualche motivo C'era Per non ascoltarti Segnale disturbato Per fortuna Non si sta più Video di 30 minuti Non mi caga nessuno Ma come mai? Eppure E quindi poi Ho virato sui videogiochi Che erano molto di moda In quel periodo Adesso ti arrangi Adesso ti arrangi E adesso c'è anche C'è anche il cibo però Adesso c'è molto Molto il cibo Perché Nonostante io sia sempre a dieta Colpa sua Mi piace molto cucinare Mi piace sperimentare Provare Mi piace molto mangiare Soprattutto Non sono un cuoco Eccelso Però mi diletto Ogni tanto A preparare qualcosina Io cucino Gli altri mangiano Però mi piace Molto molto mangiare Quando ho il pasto libero Allora Due cose Mi interessano Di voi E di quello che fate Non sono domande semplici Però Partiamo da quella Apparentemente più facile Quella Il fisico Il corpo Quanto è importante Per voi Che cosa Che cosa rappresenta Cioè questa cosa Che tu hai ben trasmesso Il desiderio Di allenarti Che cos'è Riesci a Sì riesco anche A trasformarla in parole Volendo Questa mia sensazione Di Meno male perché Io già ero andato in panico Ho detto Speriamo che inizi da lui Così io poi Rielaboro Sono qua Tu pensaci Ti faccio la stessa domanda Che E lui Dà la stessa risposta Come prima Cambiando Anche se cambi Il risultato è lo stesso L'allenamento stesso Non tanto L'aspetto che dopo Il fisico Riuscirà ad ottenere È proprio quello Che Che dà in me Piacere Ovvero Una sorta di sensazione Di Ho fatto quello Che dovevo fare Avete presente Quando siete Piccolini Più piccolini Che siete a scuola E che tu lo sai Che il giorno dopo C'è una verifica E non hai fatto i compiti O ti chiedono Magari hai fatto questo E non l'hai fatta E rimani sempre lì Con Non è grave Ma c'è sta cosa Che non ho fatto Dopo quando invece Lo fai Stai bene Dici Porca miseria Non ho paura di niente Vado a letto E sono sereno Ecco In me l'allenamento Dava quella sensazione di Ho fatto quello Che dovevo fare Ma nessuno mi ha mai Trasmesso questo Per quello ho detto Che era un qualcosa Di mio Che avevo dentro E E dopo Io ho avuto Una grande passione Oltre a questo Ovvero La letteratura Ho letto tanto Libri finti Nulla di importante E E c'era una costante Nella filosofia antica Ovvero L'importanza Del corpo E questa cosa Non direttamente Ma indirettamente Mi era entrata dentro Io cominciai a leggere All'età di 14 anni Libri più o meno Che trattavano Questo tipo di argomento E E credo che Che questa importanza Del fisico Che poi Si sarebbe Trasportata Nella vita quotidiana Avrebbe comunque Giovato Non tanto Ai rapporti Personali O interpersonali Con mille persone O comunque Relazioni Altro Ma proprio Nella capacità Di essere performanti Anche a livello cerebrale Ovvero Un corpo Forte E allenato Ha un cervello Reattivo E veloce L'ossigenazione Che dà L'allenamento Al cervello Tutto l'insieme Tutto il metabolismo Che si accende Rende più veloce Ogni nostra Tutto Che può essere Un'emozione Può essere Una qualsiasi altra cosa Il corpo sano Il corpo forte Il corpo allenato Amplifica Ogni singola Sensazione Emozione Tutto E poi c'è sempre Per l'eccezione Che conferma La regola Che giustamente Serve Perché altrimenti Non ci sarebbero Poi Minchia ora Dovo rispondere Pure io No in realtà Su questo Siamo leggermente Diversi Nel senso Che io Ho sempre Mi è sempre Motivato Poi il risultato Finale Quindi L'allenamento Soprattutto Come tante cose Nella vita Hai dei periodi Di up and down Hai dei periodi In cui hai la motivazione Più alta Più bassa In quel caso Quello che ti Che ti vincola Poi in senso positivo All'allenamento È la disciplina Cioè tu sai Che devi fare quello E lo fai Però più che La fase proprio Di allenamento Che poi sì Magari me la godo pure La cosa Che mi spingeva Più di tutto Era poi il risultato finale Scusa Sto solo morendo Non preoccupare È ancora una certa È noia Credo sia un fastidio Infatti sto facendo la prova A non parlare Vediamo se Ha finito Se voi mi interrompete Però Ogni volta Ho capito La tossia È come il respiro Un gesto involontario Del corpo Sì Lo so ragazzi Lo sappiamo Un altro gesto Involontario Del corpo Questa Questa meriterebbe 20 flessioni Ma non ce la fa Secondo me No Se vogliamo farlo Parlare ancora No Se invece L'obiettivo È quello di dire Lasciamolo lui Intacita presenta Allora facciamolo fare E appunto Posso finire Posso finire Sicuro sei Forma fisica Forma fisica Quindi Soprattutto da quando Vengo seguito Dal suo studio Abbiamo incrementato Veramente tanto La qualità Perché prima Mi sono sempre affidato Un po' A Ciarlatani E ciarlatani Oh non pensavo Di fare così fatica Ma a me è un po' Che non parlo Anche alla stregoneria Stregoneria Esoterico Ciarlatani Non è facile Ciarlatani è bello Ma sai qual è il fatto Tu mai giocati I videogiochi Che c'hai la stamina Non hai una barretta Tipo di Non perdo tempo Stavo dicendo Nemmeno io Però lui gioca Tanto Mi ha detto queste cose Chi è questa roba Della stamina No la stamina Che è tipo La barretta dell'energia Diciamo La resistenza Di un personaggio Quindi appena io dico Ciarlatani Ciarlatani ti fotte Tanto così Di barrette La barrette è così Così Le funzioni vitali Ci sono qua Respirare E sbattere gli occhi Respirare Cosa è Questo è ormai Quello è un serbatoio A parte Fai Quindi la forma Fisica è importante Per te Sì anche perché Adesso Ci metto in mezzo Per noi diciamo che Non è quello Il motivo principale Però si può dire anche Che lavoriamo Con quel fisico Abbiamo le nostre Le nostre robette Direi E il nostro biglietto Da visita Quindi avere un fisico Ovvero un fisico Poco Oh Quando devono suonare Non suonano mai Cioè Jingle No Vai 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 Ciro Gli amanti Di Vigevano Bellissimo Visto che tu non sai parlare Cazzo Eh però suonate Ma io suono Un vocabolario di sette parole Porca puttana Ci vuole un fisico bestiale Per resistere agli urti della vita A quel che leggi sul giornale E certe volte anche alla sfiga Ci vuole un fisico bestiale Sai Speciale sai Anche per bere Per fumare Sai Fumare sai Ci vuole un fisico bestiale Non dire giarlatani Speriamo che non riprenda Chiedermi cosa Vabbè cambiamo argomento Sì Sì Cambiamo argomento Allora Voi siete Un classicissimo esempio Di Artisti No Di Sì Sì certo Artisti No ma Dico questo Probabilmente esagerato No Non lo dico con rispetto Eravamo partiti bene Ma mi spiega Ma io Io non lo esagererei Io me lo collo Perché Perché Trent'anni fa Come Nel caso mio E Dei miei soci No Che volevano Sostanzialmente Fare un po' questo Di mestiere Fare i comici Eccetera Certo Voi avete un po' Diversificato la cosa Però c'era questo Enorme Problema Non so Adesso diciamo che è enorme Allora era così Che tu Per esibirti Per farti conoscere Al pubblico Dovevi andare O a teatro Nel locale del cabaret E dopo di che Se eri bravo Andavi in televisione E vabbè Il cinema Poi era un'altra cosa Però ecco Il percorso era Obbligatoriamente Quello Quindi Il luogo comune Vuole che Arrivavano Solo i migliori Non lo so Se è vero No Non lo so Però c'era questa Enorme difficoltà Rispetto a quello Che accade adesso Dove l'avete spiegata Benissimo voi Che basta Uno smartphone E sei immediatamente In rete Un pubblico Che prima Guardava solo La televisione Adesso la guarda Molto meno Guarda le piattaforme Guarda sicuramente Youtube Instagram TikTok Eccetera E quindi C'è un Da un lato Un vantaggio apparente No Sì E dall'altro Una possibilità infinita Perché Ecco Rispetto al pubblico Di trent'anni fa Il pubblico può vedere Dieci Venti Trenta Cinquanta Cento Mille Youtuber E scegliere Con il proprio Like Quindi Voi come So che è una domanda strana Perché voi Probabilmente non l'avete vissuto Il primo Ma come Come la vivete Come vivete Questo approccio Col pubblico Che in realtà Ve lo siete creati Un po' da solo Senza bisogno di passare Da La gente Che ti porta a teatro Il provino televisivo Eccetera E in fondo È una forma Molto particolare Di democrazia Questa Sì Vuoi Partire io Vuoi partire tu Dove è arrivare Questo momento Prima o poi Durante la serata Più preparato Lo vedo più preparato La posso fare Ce la posso fare L'applauso Fa aumentare Anche la stamina Quindi Vai Credo che Come hai detto tu Diciamo Il web Abbia questo Questo vantaggio Rispetto Ai termini Diciamo canonici Ai mezzi canonici No Che c'è spazio Per tutti Alla fine Guardare uno youtuber Non ti preclude Poterne guardare Altri 10 20 Durante il corso E la giornata È anche vero Che però Da un lato Il fatto che Sia così fruibile A tutti Il fatto che Lo possano fare tutti Vuol dire È un po' brutto Dirlo così Però che Hai sempre Nuova concorrenza Quindi soprattutto Per noi che lo facciamo Da anni Abbiamo già una certa età Chi più chi meno La cosa che mi spaventa In realtà Un po' di più Di questo discorso È che Sembriamo coetanei E a 11 anni in meno Quindi Non la direi Con così tanta Tranquillità Questa cosa Bravo Ti sei difeso bene Ma questo Non hai vinto La guerra La battaglia Quindi comunque Ogni giorno Arrivano nuovi Il ragazzino Di 15 anni Perché prima Come dicevo Non c'era L'aspirazione Prima ti volevi Fare il calciatore L'astronauta Poi tutti Dicono L'astronomo Ma nessuno Che poi diventa astronauta Non è vero Adesso moltissime persone Moltissimi ragazzini Ti dicono Magari Voglio fare lo youtuber Voglio fare Adesso magari il tiktoker Cioè che va più in voga Quindi sicuramente C'è molta più concorrenza Quindi doverti anche barcamenare Tenerti il tuo bacino d'utenza Ma soprattutto Prenderne di nuovo Perché in realtà poi Tu non puoi mai Fermarti Non puoi mai Avere solo il tuo bacino d'utenza Perché poi Quello cresce Non guarda più youtube Quello si sposa Quell'altro si dimentica Hanno altri affari Esatto Cioè Se magari Avessimo Tutta la fanbase attiva Quindi devi comunque Sempre prendere di nuovo Devi sempre stare Sul trend E devi cercare Di conciliare Anche Quello che ti piace Con Quello che va Di moda No Quindi Perché altrimenti Poi diventa brutto Cioè si vede Che fai qualcosa Che non ti appartiene Sono abbastanza sicuro Che ci fosse Un inizio Di questa discussione No no ma guarda Tranquillo Hai detto Almeno tre frasi Di senso compiuto Oh Barca menarmi Sì sì Hai detto Rimanere sempre Sul trend Andato Andato Io invece Allora tutto quello che hai detto È ovviamente inopinabile Per me È pura verità Inopinabile E finiamo la stamina Non dirla mai Perché questa ti porta via tutto Appuntala Io in realtà Vorrei fare un altro Più che un appunto Voglio anche trovare Un riscontro Da parte tua Mi permetto di darti del tu Fino adesso ho dato del lei E Beh chiedo Insomma Un po' di educazione Scusa Non è meglio io Pochi concetti semplici No lui Ma quando mi ha dato del lei Ma prima sì Una piccola svista Un lapsus Insomma Una forma di rispetto inconscia Che si è palesata così Mi è sfuggita Ho dovuto rimbrigliarmi Vai a casa Io voglio in realtà Ti stammare Un attimo Ci sono quelli wireless Ormai Allora Allora No no Pensavo Pensavo Allora Saputello La cosa che fa ridere È che sono wireless Questi Servono I microfoni Guardi Servono le vostre Cagate Ah è dottore Lei Non lo so Capito Le do il camice Finito Sentiamo l'appunto E Giacomino Ce lo siamo giocati Sentiamo l'appunto Vai Io in realtà volevo trovare Quasi un riscontro Anche da parte tua Prima hai parlato Dei giovani E del pubblico Parliamo del pubblico Lasciamo stare anche L'età Secondo me c'è una profonda differenza Tra Noi Come operiamo noi adesso Rispetto magari Questa è la mia visione L'idea che mi sono fatto Di quello che vivevate voi All'epoca Perché Voi avevate Una sorta di Stacco Con il pubblico Ovvero Prendiamo ad esempio Il film che viene proiettato Al cinema Prendiamo ad esempio Magari anche la serata in teatro Lo spettacolo Il cabaret Però non c'erano i social Non c'era il contatto diretto Quindi Davi la tua performance E dopo Aspettavi Diciamo Quella che era magari La recensione O la risposta da parte Del pubblico Nei giorni a seguire Però Non sapevi Vedi se la gente Reagisce E piace Però A livello generale Il pubblico Non ce l'hai lì Noi Io mi sento In realtà Molto più in contatto Perché Magari fai una performance Fai qualcosa Fai uscire il video Sono tutti lì Che ti commentano E tu gli rispondi Ma questo ti è piaciuto No Sai Farei questo Ti scrivono il messaggio In privato Degni ho visto il video Ho visto la tua ultima intervista Ho detto cose bellissime Mi hai motivato Posso chiederti questo Cioè c'è una forma Di contatto Una forma Di intreccio Con tutto il pubblico Che ti fa anche capire La direzione Che prende poi il gusto Magari Dello spettatore Cosa che secondo me Cosa che secondo me Era difficilissima All'epoca Perché c'era solo Il feedback Hai capito Cioè Credo che questo sia un vantaggio Avendo dei feedback Giorno per giorno Su ogni singolo contenuto Possiamo anche virare Verso Verso quello che comunque Piace di più Possiamo accontentare Qualora ci siano Delle richieste particolari Noi vediamo con i click Qual è il trend Qual è la cosa che piace E forse questa A mio avviso Lui ha detto che è un vantaggio Secondo me in realtà È un vantaggio per noi Che ci lavoriamo Ma dal punto di vista Del creatore Del creator Dal punto di vista Dell'artista Io ho una cosa Che ho sempre Recriminato e odiato Perché molto spesso L'artista Si piega al volere Del pubblico Ovvero Muta il suo essere Per andare incontro A quella che è la corrente Che sta andando Una volta Secondo me Questa cosa non c'era Perché non avevi idea Di quello che balenava Nella testa delle persone Tu avevi Il pieno potere Delle tue idee Le confezionavi Le creavi Le davi in pasto Come faceva lo scrittore Con i libri E dopo stavate a vedere Quanto della tua idea Quanto del tuo creato Era apprezzato Gli artisti di adesso Riescono a modulare Velocemente In base al gusto Dello spettatore Quindi non so Quanto L'artista Sia ancora padrone Dell'arte Che ha dentro di sé E quanto in realtà Venga Non vorrei dire Influenzato Ma più inquinato Da quello che è Il gusto E la risposta estetica Del Del civico Quello che è giusto È giusto Cioè Voglio dire Cioè Sì Non so se mi diceva no No non te lo dico E poi devo spiegare E' verissima questa cosa Poi Dove sta la ragione E probabilmente Non ce n'è una sola Quello è complicato Da stabilire La cosa curiosa Per uno Per uno anziano Come me E lo posso dire Rispetto a voi Che C'è questo Enorme Enorme Differenza Di fruizione E di E di proposta Verso il pubblico Quindi Non so Che cosa Che cosa sia meglio Però Ho provato a pensare Tante volte Che per millenni Fino a 30 anni Fino a 30 anni fa Un artista Un letterato Uno scrittore Un pittore Un fotografo No Faceva la sua opera E Il giudizio Era Era in diretto No Arrivava Come lo misuravi Non so Dostoyevsky Come misurava Il suo successo Credo in base Alle copie vendute Ed era un po' Quello Van Gogh Che tra l'altro Nella prima parte Fino a quasi Poco prima di morire Non vendeva un quadro No Pensa alla tragedia Tante volte ho pensato A questa cosa qua Oppure banalmente Anche noi Quando L'unico riscontro Effettivo Immediato Era quello del teatro Perché hai il pubblico lì Che ti dice Hanno apprezzato È come adesso No Cioè Il teatro Il teatro È quella È il motivo Per cui Mi ha fatto scegliere Dopo i 65 anni Di dirigere Un teatro Come questo È perché Lo avete dimostrato Proprio voi No Qualsiasi cosa Che Chi sta qua Dice E viene apprezzata Immediatamente O c'è un silenzio carico O c'è un applauso C'è una cosa Quindi Il rapporto Il rapporto Con il pubblico Del teatro È unico Non esiste altro È ancora più diretto Del social Assolutamente sì Perché Non voglio far polemiche Perché comunque Il social Andrebbe Meriterebbe Di essere analizzato La risposta immediata Del social Ci sono tanti problemi Voi lo sapete Quelli che I like Ma ci sono gli haters Ci sono Cioè Ecco C'è una cosa Che è andata persa Che probabilmente È anche importante È È la forma Faccio un esempio Dopo lascio parlare voi La forma Ma noi siamo qui Ad apprendere Perché ci priviamo No no Avercene Guarda Quei cretini così Ascolta Noi Noi tre Ma tanti di noi Siamo Cresciuti Artisticamente Con il pubblico Del teatro Pensate che A teatro È un luogo Comune Ma è un po' così C'è una forma Che ha un suo Perché Tu vai a vedere Uno spettacolo Invento Non so Tre sorelle Di Chekhov No Tu vai lì Vai E anche se Non ti piace Te lo sopporti Ti addormenti Ti Che due coglioni Però Finisce Lo spettacolo Applaudi Ipocritamente E te ne vai Quello è un po' Per dire che anche Quando non ti piace Una cosa Non la motivi Direttamente Lì In maniera Sgraziata Che cosa Non ti sfoghi Non ti sfoghi Non ti sfoghi Diverso era Il pubblico Del cabaret Il pubblico Del cabaret Che è nato Negli anni Ottanti Intanto Non si faceva Teatro Perché il teatro Ha in sé Un'eleganza Ha un suo fascino Che non ti permette Neanche questo sfogo Mentre il cabaret Si faceva In locali Tipo ristoranti Birrerie Così Per cui Il pubblico Era anche Autorizzato A insultarti A dirti Cattiveri Eccetera E quindi Il cabarettista L'artista Reagiva E da lì Nascevano Delle cose Ma segnalo Questo per dire Che c'è una differenza Enorme Perché voi Lo state dimostrando Vi mettete lì Postate un video Fate un rinno Una cosa Immediatamente E se Se voi voleste E lo fate Immagino Potete reagire Personalmente Con uno spettatore Alla volta Quindi Cambia un po' tutto In effetti Quello che dici tu È vero Cioè L'artista Adesso Per dirla grossolanamente Si sente totalmente libero Oppure è condizionato Per piacere Perché poi Ecco Un'altra domanda Che vi voglio fare È proprio questa Visto che voi Visto che voi Siete un po' Dei campioni Dei social Così Ecco Quanto conta Quanto conta Il parere del pubblico Quanto Quanto influisce Allora il parere del pubblico È fondamentale Soprattutto adesso Che è un lavoro A tutti gli effetti Senza girarci intorno Quello che fai Deve anche piacere Come ti dicevo prima Deve essere il giusto Compromesso secondo me Tra quello che ti piace fare Per non snaturarti completamente È anche quello che Piace vedere Anche perché Io penso che Se magari il pubblico Apprezza un qualcosa Che ti vede fare Specie magari Parlo di me Che ho spaziato tanto Noi in questi 14 anni Ho fatto tante cose Ho cambiato argomenti Eccetera Probabilmente è perché Sta piacendo quello Che stai facendo No? In quel momento Quindi ti viene bene Quella determinata cosa Che sia cucinare Che sia la palestra Che sia cantare E quant'altro Collegandomi a quello Che hai detto prima Io penso che ci sia Anche un altro Non un problema Però un altro Punto focale Di tutto ciò È che Mentre a teatro Qualsiasi cosa Ma anche durante il cabaret Eccetera Ci metti la faccia Quindi sì Tu puoi avere Un feedback istantaneo Per chi ti sta guardando Però Vedi subito Chi è che te lo sta dicendo Questa cosa Con i social Con il nickname Con il nascondersi dietro Un Un nome utente Fittizio Siamo tutti Un po' autorizzati A dire E secondo me Questa cosa Non è sempre positiva Perché è vero È molto più democratica La cosa Chiunque può dire La sua roba Però Ti faccio un esempio Pragmatico Il Pinco Pallo Che va A criticare La ricetta Dello chef Stellato Perché no Perché io Secondo me Questo non va fatto In questo modo Io la faccio diversamente Secondo me Certe volte Bisogna anche avere Delle basi Per criticare Quello che stai Guardando Quindi Il risvolto E la medaglia Io non sono proprio Iper pro Totale democrazia Sui social Il problema Sai qual è? Sai dove sta? Semplicemente Nell'educazione È questa che si è persa Si è persa solo L'educazione Perché se noi Reagissimo Con quello che davvero Ci ha dato Il contenuto E dicessimo Quello che pensiamo Realmente Ma con educazione Non si scatenerebbe L'onda di odio Che Che ne deriva Da tutto quello Che sta succedendo Adesso L'hating Che c'è In questo periodo Storico È violento È minatorio A livello anche Psicologico Dell'artista O di chiunque Ci sta Dando se stesso Per pubblicarsi Davanti a tutti E viene molte volte Anche preso Sotto aspetti Personali Sotto aspetti Cioè Hanno un'arma Nascondendosi dietro Di un qualcosa di finto Che esce dall'educazione Esce da ogni forma Di rispetto Quindi In quel caso Non è un problema Della democrazia È l'educazione Che ci è sempre Stata insegnata Quando Abbiamo davanti Una maschera Questa Non ci serve più Perché non dobbiamo Giustificarsi Poi Delle nostre azioni Ok Quindi si sentono Liberi di E c'è tanta Violenza C'è tanta violenza Che poi sarebbero Di buon costume Cioè Proprio Insultare Anche sul personale Cioè È una cosa Che anche Quando ho iniziato io Non esisteva Invece adesso Chiamiamola Generazione Z Ma per stupidaggini Non voglio fare Tutta l'herbo Un fashion Perché io sono Assolutamente contro Il fare Il generalizzare Però rispetto Cioè Rispetto a Anche Non ti dico dieci anni fa Ma anche a cinque Sei anni fa Adesso è un po' Tutto anche allo sbaraglio Chiunque Dice quello che Vuole Anche come Con tiktok Quindi contenuti veloci Non guardi nemmeno Hai la prima impressione Boom Commento subito Con la prima impressione Non vado nemmeno a fondo Al contenuto Di quello che Ha pubblicato Il creator Prima impressione Boom Te la commento Se ti devo insultare Ti insulto Se ti devo elogiare Ti elogio Non lo so Non lo so Quanto questa cosa No è brutta Cioè No è molto brutta Figurati Cioè Ci devi fare il callo Ci devi fare il callo Ma anche no Cerca approvazione Dì una risposta visiva Cioè Se glielo vuoi fare Glielo fai Se no no E forse Forse non lo so Se è utopistico O che cosa Però Sarebbe già Un gran passo Che Siano Vietati I nickname O I profili anonimi Che uno Abbia un profilo Se vuole dire la sua La può dire Anche secondo me E quindi Però evidentemente Questa cosa qua Non collima Con gli interessi Di certe cose Evidentemente O non conviene A chi Amministra Diciamo Questi tipi di social O è ancora Difficile Da realizzare Questo tipo di controllo Sentiamo ancora loro E perché no Andiamo a chiudere Ciro E gli amanti di Vigevano Ecco qui Il nostro malato Che bella c'era La trovo bene Come sta La sua grillite Ora le tolgo Il nostro apparecchietto E vedrà Lei guarirà Dunque Dottore Accidenti Sono affetto Da un più grave Difetto E Sa cosa le dico? Go ganga Go ganga Go ganga Ga ganga Go ganga Go ganga Ga ganga Go ganga Go Danny Qual è l'ultimo libro Che hai letto? L'ultimo libro Che ho letto Non te la faccio A te sta domanda Te la cambio Ti chiedo Qual è l'ultimo sugo Che hai preparato? E comunque Non è male Adesso Sto Ho da poco Anche Intrapreso Questo nuovo viaggio Verso la Digitalizzazione Della parte Di letto Ridi Bisogna essere adeguati Anche a quello Che sta arrivando Ok? È pratico Ha detto Senza Inciampare Digitalizzazione Guarda Nemmeno ci provo E ho acquistato Questi strumenti Che ti permettono Di avere tantissimi libri All'interno Di questo tablettino Che simula la carta Si Un kindle Ah si può dire E diciamolo Il kindle Vabbè ormai È purato Ok E lo diciamo È un nome commerciale È un sistema È una cosa È un oggetto Esatto E ho scaricato diversi libri E sto cominciando A riprendermi un po' La letteratura Dell'ottocento Sullo studio Della risposta Delle masse Quindi sto cercando Di leggere Approfondire Diciamo Per com'era nel 1800 La risposta Delle masse Delle folle È un po' troppo politico Quel tipo di aspetto Perché quello Quello Verteva per lo più Al mondo politico Ovvero Ma dimmi L'autore Non lo so Perché ho tirato giù Tante di quelle raccolte Che sono Spillolate tutte quante Quindi il nome Non me lo ricordo Spillolate Spillolate Vuol dire che ho All'interno di questo Kindle Un'infinità di libri E c'è questa sorta Di libreria Dove io mi apro il titolo Non fare così Potrebbe essere utile Anche a te E ti si apre direttamente Ti si apre direttamente Digiti nella copertina Che in bianco e nero È anche piccola E non si legge bene E hai tutto quanto il libro Ed è così Che mi sto avvicinando Mi permette di leggere Abbastanza velocemente Nonostante il mio disturbo Io sono dislessico Quindi Non riesco a leggere Molto bene Quindi per me è anche Un impegno Piuttosto Sai inventato Delle piattaforme Con dei font Assolutamente Assolutamente Che lo Stiamo parlando di cose Che Ci sono anche Ci sono delle piattaforme Pubbliche Se qualcuno è dislessico Lo sa Potete raccogliere Fare il copia e incolla In una piattaforma digitale Completamente gratuita E ve lo riporta Molti doppiatori Fanno anche così Io però mi sto allenando Non è una forma Molto aggressiva Però incide parecchio E sto tornando Ad allenarmi A leggere Normalmente Quindi Una stesura classica E mi sto avvicinando A questo tipo di risposta Il libro Che sto leggendo Vuole analizzare Sì la risposta Delle folle Però con un occhio Un po' politico Ovvero di quando C'erano Le prime manifestazioni Sulle piazze Di quando Si raccontava Magari Al pubblico A una nicchia Ristretta di pubblico L'idea politica Per poi fare Un'ascesa Un po' più grossa Un po' più importante Io sto cercando Di trarre Dalla risposta Del pubblico Dell'ottocento Un qualcosa Che possa accumulare A quello che è Il pubblico Di adesso E tante similitudini Riesco A ritrovarle Ed è un qualcosa Di impressionante Come la risposta Cioè La ripetizione Di una falsità All'occhio Di una folla Può dopo diventare Comunque La realtà La verità E questo genere Di fake news Esattamente E queste cose Sono pazzesche Perché sono Proprio riportate Al giorno di oggi Ed è da pelle d'oca Questa cosa Cioè C'è stata tanta evoluzione A livello Digitale Meccanico Industriale Ingegneristico Ma noi siamo Sempre stupidi Uguali E il male Esiste sempre Ed è impressionante Ed è impressionante Però non guardare Lui Quando dici Ste robe qua Che non è bello Carbonara Allora Guanciale Twirl Aspetta Aspetta L'uovo Tutto O separato Giacomino Finchia Non faccio il comico Finchia Lo chef Porca buttata Solo il tuorlo Io mangio Io sparecchio Solo il tuorlo Solo il tuorlo Anche meno però Sempre il rispetto Però Sì ma è così Qual è la tua pasta preferita Da mangiare Non da fare Lui Qual è l'ultimo libro letto Massa Pasta preferita Te lo chiedo anche a te No 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 Va bene la pasta Giacomo Alla grande Ma sai che Non so se ce l'ho Una vera pasta preferita Mi piace fare Veramente tante E poi vado Anche tanto a periodi Per adesso sono Infottato Con il Infottato Infottato Segna Non c'è sul dizionario Però Da tranquillo Sul mio Sì Sei infottato Sciocco Per ora Mi piace molto cucinare il pesce Pasta col pesce Pasta col pesce Bongo le gambe I ricci Bongo le gambe Ora però Cioè Allora Dopo Che deve pensare Giacomino di me Dopo questa Che sono Ma basta che sarde Pasta con le sarde Mi piace Ma sai che Non mi sono Finocchietto Molto decatturato Di solo E invece L'unico libro Che hai letto In vita tua Qual è? Mi aspettavo Questa domanda Giacomo Ti sei preparato? No No guarda Ti dico Aspetta Scusa Il superuomo Di Nietzsche Un attimo Mettiamo qua Vai Beh potrei citarti A proposito di Nietzsche Potrei citarti anche L'Eterno Ritorno Scusa Mi ha sputato tutta La maietta Di Provisore di Nietzsche Potrei citarti anche L'Uroboro L'Eterno Ritorno Il superuomo Nietzscheano Nietzscheano? Nietzscheano Ah Ci ho fatto la tesina Delle superiore Cazzo Tu hai fatto la tesina Su Nietzsche Cavolo ma porta Pirandello Io Io sono In quinta superiore Ho preso un aereo Sono sceso in Sicilia Ad Agrigento Perché volevo Respirare Quello che ha respirato Mentre scriveva Le sue opere Ma pure io Sono andato Là Pure lui è andato Ad Agrigento E ci sta Oh mi hanno passato questa Cioè Mi hanno fatto la tesina Bella e pronta Tutto collegato Mappe concettuali Su serio? Bellissimo Oh sei anni di ingegneria Ragazzi Sai quanti libri? Non è che devo leggere sempre È una vita all'è Ingegnere? Ingegnere No no Oh ingegnere Ingegnere informato No sono veramente laureato È un po' una Ingegnere Informatico È un po' È un po' Diciamo un Sono un po' la vergogna Degli ingegneri Perché? Perché? Perché non so manco Formattare un computer Oh spazio per una materia C'era Davo la materia Tabula rasa Prossima Però ti giuro Solo l'ultima L'ho lemosinato L'ultima proprio Qual era l'ultima? Inchia metodi numerici Che cosa è? Non lo so Mai capito Oh no no Mai capito Io tutti gli esami Che ho dato Almeno un minimo Non sono mai Non ho mai passato un esame Non sapendo nulla Metodi numerici Non ho mai capito Ma sono arrivato all'esame Ma era a crocette Quell'esame No 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 Era periodo covid Quindi un po' di Di rubato L'abbiamo fatto Supero lo scritto Rubato Andiamo all'orale Non so se si L'orale face to face Col professore Minchia L'orale va Come doveva andare Allora Come direbbe Max Pezzali Come dovrebbe andare Giorgio Mi parli dei Metodi numerici Più o meno così Eh ma Muratore Lei Muratore Io Ma lei Non ha studiato Io Sì brava Come E come Minchia Ha fatto A darle Un 18 Sai come Professoressa È l'ultima materia Professoressa È l'ultima materia Sono sei anni Che sono qua Oh Non l'avessi mai detto Cambia in viso Sei anni Sei anni Normalmente Lo fanno in tre Non voglio esserti Ancora d'intralcio 18 18 Ma che cattore Fred 18 Un 18 Che valeva Come un 30 E lode E ti dico Champagne Face Non tutti i cervelli Fuggono all'estero Palermo Fermo una settimana Quando si è laureato Vabbè 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 Comunque Siamo Verso la fine Oh Accipicchia È volato Mi dispiace E a voi dispiace Un po' Siccome c'era ancora Qualcosa Però non comando Volete dire Qualcosa Volete Lei si è preparato Su Che argomento Sì Un monologo Ce l'ha lui Sul niche Il superuomo Anche quello È molto attuale Così parlò Zaratustra Quello è È molto Dovrebbero farlo leggere A scuola Proprio non hai da fare Questa sera Topolino Beh invece sì Guarda Perché non c'è tempo Veramente L'anno prossimo Vi rinvito Dai Se non decadete Di fisico Perché Adesso Fa bene tutto Ci proviamo Per fortuna che guardava te Perché io non so L'anno prossimo Come sono messo Ci proviamo Perché la storia Che tu hai tirato fuori Casualmente Di niche Superuomo Beh insomma Abbiamo forse anche scherzato Sui social Ma la tecnologia Antecologia Antecologia È protagonista Assoluta Della nostra vita Delle nostre esistenze Ed era un po' Non so se Interpreto correttamente Un po' Quello che Si immaginava Nice Con Con il Superuomo Visto che non credeva In niente Tu sei documentato Ho studiato Visto che non Non credeva In nessuna divinità In nessun Aldilà Amava intanto Ascoltare Comunque Lui dava sempre Non il beneficio Del dubbio Ma adorava Il superuomo Comunque Arricchirsi Di tutte Queste informazioni No Però si Una forma Di diffidenza Verso un qualcosa Di superiore Che lo fece Gli diede modo Di Dere delle armi assurde Cioè Concentrarsi su se stesso Tanto da Raggiungere quasi Ma lo riferivo Soprattutto Alla potenza Della tecnologia Ma cosa dite Forse non c'è tempo Per parlare In questo argomento Lei ha le redini Di questa Bellissima avventura Che peccato Che peccato Io Prima di andare via Vi voglio chiedere Due cose Vedi che voi Mi facciate Due regali Allora Come faccio A farla sparire? Ma io non vedo niente Non dire cagate Ma che fisico Il blu slancia Ma il bianco Ancora di più Ma va a cagare Ma stiamo scherzando Ma puoi telefonare A mia moglie Allora Ma ci parlo volentieri Scherziamo Vabbè Dammi un consiglio Un consiglio A lui chiedo cosa mangiare Il primo consiglio Che do È quello più odiato La gente mi guarda E mi dice Perfetto A te non chiedo più niente Qual è? Il primo consiglio Che do È quello di Togliere l'alcol Togliere Hai capito Fa questa reazione Togliere l'alcol Ma io non bevo No Allora benissimo Si sieda Possiamo avvicinarci A un mondo bellissimo Dei micronutrienti È a Stemio anche lei? Nuovo cliente di Elle Sì è Stemio Sul serio Come me Ma sei scemo Ma sei scemo Micchia Allora Già devo sopportare Giovanni e Aldo Sono interista Cazzo Fammi bere qualcosa Almeno Dai Vabbè Comunque Comunque Sei stato convincente Ecco Da te voglio un consiglio Cosa Cosa devo mangiare Per gustare E Cosa ti ha detto? Ma io non Perché Oh fuori Non ascoltare sempre Quello che ti Ma ti posso dare invece Un consiglio Controcorrente Certo Questo che voglio Posso Ma che cazzo Ma mangia Mangia Guarda io mi sono dato Mi sono dato Non ti dico una deadline Perché probabilmente Una deadline È giovine Perché c'ha 28 anni E si tratta la deadline È giovine Vogliamo dire un giro di boa? Vai Sentiamola Cosa c'entra il giro di boa? Ecco Sempre Lui non lo sa bene l'inglese Capito? Non lo sa bene l'inglese Quindi Nietzsche Deadline Una deadline Giro di boa Io penso che Sorry Can you translate for me? Deadline Giro di boa Dimmi Era uno spin-off di Non vedo Non sento ma parlo Ma io credo che L'idea che ho in mente Il progetto E poi puntualmente Non verrà rispettato È che io tipo Ai 40 anni Non faccio più niente Non vado più in palestra Non faccio più dieta E finalmente mi godo Tutto quello Che vorrei mangiare Che alla fine Non è tanto Ma che cazzo stai dicendo? È un messaggio di merda Ma è quello che ho fatto Ma no aspetta Non Io ne ho 67 È quello che ho fatto Fino a 40 anni Mi sono tenuto E poi va va Fa un culo Però 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 Ma scusa Però Però Forse non è un bel messaggio Come se uno Andasse dal medio Dal pneumologo Senta sto fumando 30 sigarette Al giorno Ma vaffanculo No nel senso che Il fatto è tutto Nel saper Equilibrare Cosa Ci vuole il giusto equilibrio È ovvio che se tu Ogni giorno Vai di accessi Così mi piace di più Non so se dai 40 Arrivi ai 41 Però 67 Ma guarda Com'è equilibrato È equilibrato Non è che Arrivo a 40 anni E dopo proprio Che poi è più o meno Come mi Figuravo me stesso Ai versi 40 Una sera Abbiamo cenato insieme E visto Cioè non è Hamburgerino Ma sì ma ci sta Cioè io ti dico È ovvio che rispetto A un'alimentazione Facciamo noi Che è molto Molto controllata Molto Restricted Adesso 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 aspettiamo Perché non ho idea Della stamina Dove sia finita Vediamo cosa ne esce E quindi Cioè Vorrei poter Avere più magari Di un pasto libero A settimana Che sta cosa Ti condiziona un sacco Caspita Avresti Io dopo i 40 Vorrei avere due sgarri Che posso Cioè non posso parlare Non parlo Signore e signori Vai uomo X Burri E Danny Lazarine Poppo Redcast È ora di andare Qui abbiamo finito La casa si va Grazie mille Grazie infinite E tua moglie Sempre col telefono In verticale Grazie mille davvero Ciro e diamanti Divigevano Ciao a tutti Arrivederci al Teatro Oscar Ciao Ciao Grazie a tutti